Volevo condividere con voi lo sbigottimento che ho provato ieri nell'ascoltare all'inizio della seduta l'intervento del collega Pittella sui tragici fatti che si stanno verificando in Grecia. Uno sbigottimento che mi ha impedito di reagire immediatamente ma forse questo è un bene visto che 24 ore dopo ciò che è ovvio è stato affermato sulla stampa in particolare su uno dei più prestigiosi ed autorevoli quotidiani italiani il Corriere della Sera da uno dei giornalisti più esenti da quello psicoreato che è il non allineamento al pensiero unico. Cioè Federico Fubini. Vedete, quello che è successo in Grecia ha una molteplicità di cause ma è impossibile non menzionarne una che è il risultato delle politiche di austerità che hanno smantellato fra l'altro anche il sistema della protezione civile di quel paese. I dati sono forniti oggi dal Corriere della Sera. Si parla di tagli di 34 milioni di euro, si parla di un organico di vigili del fuoco che scende da 12.000 a 8.000 persone e si parla, per le persone che rimangono, di un 79% di vigili del fuoco in sovrappeso o in condizioni di scarsa efficienza fisica perché sono costretti a ricorrere a un'alimentazione basata sul junk food. Quindi ovviamente non possono permettersi un'alimentazione proteica, sono fuori forma, non sono fisicamente efficienti. Ora, questo di che cosa è il risultato? È il risultato di quei programmi di austerità cui la Grecia è stata sottoposta. A me fa piacere che adesso il collega Pittella chieda la solidarietà dell'Europa verso la Grecia. Ma quando nel 2012 veniva pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale e imposto a quel paese un memorandum che faceva carte false, letteralmente, utilizzando un valore del moltiplicatore fiscale totalmente sballato, pari a un terzo di quello che la letteratura scientifica ci forniva, il collega Pittella era vicepresidente vicario del Parlamento europeo. Lui era lì e la meravigliosa solidarietà della famiglia socialista europea non si è vista in azione. La solidarietà del branco dei lupi dove il debole viene sbranato.